L'ho fatta a Carlin? No, questa l'ho fatta io. Hai visto? Fateli crollare! Uccisione! Nelito a terra! Uccisione! Nelito a terra! Uccisione! Vabbè, 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 vabbè! Ok, ok! Non ho parole! Madonna! Li abbiamo picchiati male! Stavo facendo... Forza 2! Non lo so quanto, 18-30, ho messo le armi, 44-33... Per non aver fatto un cazzo... Ti penso che sei simile! L'ho detto io! Vabbè, vabbè, vabbè! Ma quell'altro, scusa! Connessionato! Connessionato! È connessionato, sì! Ce ne siamo un'altra, perché non solo fa con le quattro! Bella! Non ce l'ho dietro! Riconsistemato! Cucino! L'operatore dei mongoloidi che non stanno giocare! Vada, batteri! Infatti, vabbè! Cristo! Attivo! La postazione è contesa! La postazione è contesa! Perimetro UAB stabilito! Vuota 10 in giro! Che ho pensato! Un minimo di sindaco di tanto! BANG! 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 Abbiamo perso la postazione! Postazione sotto controllo! La postazione è contesa! Fuori dai piedi! Ha finché non me la finish pandemia! L'elicottero d'assalto è stato distrutto! Che poi l'elicottero è stato distrutto? Sì, c'è uno che continua a scavare l'errore Ah, dov'è? È lì Ma dove sta comporando? Sì, è che mi ha salvato la vita Io credo Non è vero, non ho fatto niente Madonna, lo stai vedendo anche tu? Quello credo io No, niente No, già è terribile l'orografo Guarda È terribile Ok Minaccia rinossa Ah, c'è un altro No, c'è un altro No, c'è un altro Amico eliminato Non è vero Non è vero È vero È vero È vero È vero Grazie a tutti.